Buonasera, soltanto 24 ore fa pensavamo che questa sera si sarebbe parlato della direzione del PD che doveva essere la resa dei conti tra Renzi e la sua minoranza o della conferenza stampa congiunta di Salvini e della Meloni su Roma e sulla condizione del centro-destra e forse avremmo guardato con interesse al nostro sondaggio del lunedì. La direzione del PD è stata rinviata, quella conferenza stampa avrà luogo dopodomani, per i sondaggi non è certo la serata, perché poi hanno cominciato a arrivare proprio ieri dalle 9 di sera in poi notizie sempre più convergenti sul fatto che quella incidente avvenuto in Catalogna sulla strada vicino a Tarragona per portare a Barcellona aveva causato la morte di 7 ragazze italiane, 7 studentesse universitarie, 7 ragazze di quella straordinaria esperienza che dura da 30 anni che è l'Erasmus, che permette ai giovani di tutta Europa di fare esperienze, di scambiare esperienze e studi per il continente. 7 ragazze italiane di molte regioni diverse che hanno trovato la morte insieme nello schianto di un autobus, a quanto pare il conducente era notte fonda, ha avuto un colpo di sonno. Ma quello che è successo appunto è che forse come raramente è successo in passato e tutto il paese si è stretto attorno a quelle 7 ragazze. È fatale per la storia di Cronaca che noi non si conosca queste persone fino a quando non si fa più in tempo, non le si può più conoscerlo, si fa attraverso delle fotografie che le ritraggono sempre sorridenti come non possono più essere. Tutte le attività pubbliche italiane sono state cancellate e il Presidente del Consiglio è andato in una visita senza dichiarazioni in Catalogna per parlare con i familiari delle vittime per vedere i feriti. Cercheremo anche noi di raccontare questa giornata il più possibile sobriamente, ma sapendo è che è un dramma, una tragedia che ha toccato tutti. Nel giorno che vive a livello internazionale di uno straordinario incontro e di una straordinaria stretta di mano all'Havana tra Raul Castro e Barack Obama. Cambia il mondo, cambia perlomeno quella parte di mondo, cambia il rapporto tra gli ex Yankee e gli ex comunisti castristi. Cambiano tante cose, ma non cambia la difficoltà dell'Europa rispetto alla questione migranti, un accordo con la Turchia che sembra destinato a non ingranare. Vedremo anche come dopo la cattura di Salah, la lotta contro i jihadisti in Europa non è finita. Si cerca un altro latitante, un altro che si è dato alla fuga, mentre sono arrivate le immagini del momento in cui Salah è stato catturato. Ma vedremo anche i fatti italiani, ce n'è uno che riguarda proprio il nostro sistema paese. Telecom vola via verso la Francia, pieno possesso, la proprietà dei francesi di Vivendi che avrebbero allungato le mani anche su una parte dell'impero Mediaset. Tutto questo senza che ci siano tendenze alla reazione. E del resto questo è il paese, lo vedremo, in cui a Roma non solo il comune dà in affitto le case del centro a prezzi irrisori, ma gente che si può permettere ben altro si permette anche di non pagare quell'affitto irrisorio. 85% morosi. Incredibile ma vero. Questo è altro. 30 secondi i titoli. L'Italia intera è in lutto per le sette studentesse morte nell'incidente stradale in Catalogna. Tutte le ragazze facevano parte di un gruppo che svolgeva a Barcellona un'esperienza universitaria con Erasmus. Gravi le condizioni di altre due nostre connazionali. La tragedia causata da un colpo di sonno dell'autista del bus. E in queste ore di sgomento dalle pagine di Facebook emergono i volti, le storie, i sogni, le speranze di queste giovani studentesse. Come in una moderna antologia di Spoon River, foto e parole che ci ricorderanno per sempre queste vite spezzate. È il giorno della primavera cubana. La visita di Obama nella capitale Lavana mette la parola fine alla guerra fredda tra Stati Uniti e Cuba. Dopo quasi un secolo si chiude il periodo di tensione e contrasti tra i due paesi, suggellato dalla stretta di mano tra Raul e Obama. Ma restano le divergenze sui diritti umani e la democrazia, ammette il presidente americano. Come era da immaginarsi parte in salita l'applicazione dell'accordo sui migranti tra Unione Europea e Turchia. Dall'Europa solo porte chiuse. Se dovessimo prendere esempio da loro dovremmo chiudere le nostre frontiere, ha ammonito il presidente turco Erdogan. E la Grecia aspetta ancora l'arrivo di 2.500 funzionari per la gestione della crisi nei campi profughi. Sono state diffusi le immagini della cattura di Salah Abdeslam mentre tenta la fuga dal covo di Molenbeek dove sono stati rinvenuti armi e detonatori. Quasi certamente da usare per un altro attentato a Bruxelles. Ha informazioni di grande valore, ha detto il legale di Salah. Intanto prosegue la caccia ad altri complici del terrorista coinvolti nelle stragi di Parigi. Domani ufficiali le dimissioni dell'amministratore delegato di Telecom, Patuano. Un addio su cui pesano le nuove strategie dell'azionista in maggioranza, la francese Vivendi controllata da Vincent Bolloré. In vista ci sarebbero anche alleanze con Mediaset. Possibile collaborazione, ha confermato Berlusconi. Il titolo Telecom corre in borsa. Scandalo nello scandalo. L'affittopoli romana da Campidoglio, i primi numeri sulla vicenda della gestione del patrimonio immobiliare del Comune. Nel centro storico l'85% degli inquilini è moroso. Il commissario Tronca indica in 357 milioni di euro il debito accumulato negli anni dalla cattiva gestione degli immobili nella capitale. Non c'è altra notizia, non c'è altro quando si viene a sapere della morte di sette studentesse italiane in quella tragedia in Catalogna. Sette ragazze italiane sulle 13 vittime dello schianto di quell'autobus. Di ritorno è da una gita, un ritorno notturno da una gita per vedere uno spettacolo di fuochi d'artificio. La nostra inviata. È come una via Crucis con le sue stazioni dolorose che si snodano lungo l'autostrada sette che taglia in due la Catalogna da Barcellona a Tortosa direzione sud. Sette come le vittime italiane di questa strage della strada che si è portata via 13 ragazze studentesse Erasmus necessità di un orizzonte più vasto. La prima fermata è Tarragona a 100 chilometri ospedale Giovanni XXIII. Qui non ce l'ha fatta nella notte Elena Maestrini ricoverata in gravissime condizioni. Michelangelo Di Luzio era con lei sul pullman e si è salvato. Una frattura al setto nasale è stato già operato ci dice il padre Giancarlo. È sotto shock ma guarirà. Ha aperto gli occhi e ha visto quello che stava succedendo. Tra l'altro Luzio ha detto che ho perso gli occhiali, lui è abbastanza mio. Dice che non sono contento di averli persi. Non capivo bene se è perché. Teneva che gli vedi come si è andati gli occhi ma forse mi piaceva se non ho visto quello che succede. La seconda stazione è l'autostrada, il punto dello schianto che chiude una giornata di festa con la morte che arriva nel sonno perché 275 studenti in 5 pullman avevano lasciato in colonna Valencia alla fine della Sfaias e del grande falò dopo le 3 del mattino. La dinamica è chiara, un colpo di sonno, un momento di distrazione dell'autista. Il pullman sbanda, invade la corsia opposta e finisce la sua corsa contro un'auto ribaltandosi. Comparirà davanti al giudice nei prossimi giorni il conducente. La terza stazione è l'obitorio di Tortosa. Ad uno ad uno i familiari hanno dovuto riconoscere le salme e quello che resta delle loro ragazze e sarà necessario anche il DNA prima di rientrare in quel po' di calore dell'hotel Parador, l'ultima fermata in cima alla collina. Il consolato italiano e le autorità catalane hanno allestito l'unità di crisi per garantire ai parenti di tutte le vittime un momento privato. Nel pomeriggio intorno alle 17.15 è arrivato Renzi accompagnato dall'ambasciatore Sonnino appena insediato in Spagna. Si è intrattenuto 40 minuti con i parenti delle vittime e ha chiesto alle autorità di sbrigare in fretta tutta la burocrazia e far tornare tutte e sette le salme a casa. Poi il premier ha fatto il giro degli ospedali, Tortosa, Tarragona, Barcellona, prima di tornare in Italia. Si dice dall'antichità che è caro agli dèi chi muore è giovane. È un'ingiustizia nell'ingiustizia cercare di coprire la suprema irrealità di quello che può accadere a una vita spezzata a vent'anni. È quello che è successo a quelle ragazze e possiamo immaginare, chiunque sia genitore, che cosa vuol dire invertire la logica della vita. L'abbiamo saputo praticamente telefonando alla ragazza, alla coinquilina che era con lei, anche perché lei ci doveva chiamare e non ci ha chiamato. Non è mai successo in 22 anni. E allora ci siamo preoccupati subito. Precisissima, doveva chiamarci e avrebbe fatto di tutto per chiamarci. Non ci ha chiamati, è passato un'ora, due ore, tre ore, quattro ore. Alla fine abbiamo capito subito che era successo qualche cosa, subito. Era qui per fare l'Erasmus. Quanto tempo doveva rimanere? Rimanere fino al 31 di luglio. Era una ragazza, non perché fosse mia figlia, ma una ragazza adorabile, di quelle che non si trovano più. Era felicissima di essere venuta qua. Il nostro paese, l'abbiamo accompagnata. Ci ha lasciato la vita e anche noi con lei. Adesso non siamo neanche quasi riusciti a riconoscerla. Mi è sembrato di impazzire in quel momento perché non la riconoscevo. Non la riconoscevo. Ci sono troppe vittime sulla strada, fra i nostri giovani, che poi sono la nostra forza, la forza del futuro. Lei e tutte le sue amiche italiane, e poi italiane. Lei aveva tante amiche anche di tanti altri paesi, che sono venuti qua nell'ospitalità spagnola, che le ha accolte molto bene. però purtroppo è successo che hanno perso tutta la vita e sono ragazze anche rovinate dal punto di vista della Salma, che uccide due volte i genitori, anche i genitori come noi che avevano solo questa figlia. Non abbiamo più un grosso scopo di vivere. Noi siamo morti con lei. Non c'è più speranza di niente. Non ci importa di nulla. E sì che l'Erasmus, la straordinaria operazione trentennale di scambi tra universitari di tutta Europa, aveva aperto a quelle e a tante altre ragazze e ragazze italiane la strada verso la conoscenza di paesi diversi. Barcellona è una delle mete più ambite da sempre. Lì aspettava, si dirà, il destino, la sorte. Quelle sette ragazze. All'Erasmus è qualcosa di particolare. E viene piagata oggi un'esperienza che ha plasmato parte anche della nostra classe dirigente. Un nastrino nero sul sito di Erasmus. Tre milioni di ragazzi in giro per l'Europa a studiare dal 1987. Umberto Eco, quel progetto che ha dato vita a una generazione di giovani europei, lo voleva obbligatorio per tutti. Per molti una scuola di vita, un investimento per il futuro. A Erasmus è passata, primi anni 90, Federica Mogherini, Lady Pesc, preparata, studiosa, un po' secchiona, rientra perfettamente in quella generazione Erasmus, così spesso evocata da Matteo Renzi. Ma tra le maglie di Erasmus, in Finlandia, Helsinki, è passato anche Roberto Fico, 5 Stelle, adesso presidente della commissione di vigilanza Rai. Come anche Andrea Sironi, attuale rettore della prestigiosa Università Bocconi di Milano. Oppure l'autore di Gomorra, il libro più celebrato degli ultimi anni, Roberto Saviano, che ha fatto l'Erasmus in Germania. Giulia Innocenzi, autrice e conduttrice televisiva, racconta così il suo Erasmus. È sicuramente una delle esperienze più formative. E oltretutto è un'esperienza che aiuta poi anche a livello lavorativo, la conoscenza delle lingue, l'aver fatto un'esperienza di questo tipo, quindi essersi messi alla prova. Io stessa durante l'Erasmus feci un viaggio in Pullman per andare a Praga. Era proprio la stessa identica situazione, un grande gruppo di ragazzi. Ci siamo divertiti tanto e purtroppo una tragedia ti può colpire anche in un momento così felice. Questo che colpisce particolarmente. Guardare fuori casa, scoprire gli altri, mettersi alla prova. Al momento sono poco meno di 30.000 i nostri ragazzi sparsi per l'Europa. Spagna, Germania, Francia, ma anche Turchia e Polonia. Difficile dirlo ora in questa giornata di lutto, ma il valore della mobilità dei nostri giovani, dello scambio tra università, è un fatto straordinario. Per loro, per i giovani studenti, l'Europa unita è più facile. Racconta così il suo Erasmus 27 anni fa, era l'89, l'anno della caduta del muro di Berlino. Sandro Gozzi, ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio. È andata benissimo, mi ha cambiato la vita, perché l'Erasmus è proprio quel moltiplicatore di opportunità e quell'Europa che moltiplica le opportunità che vogliamo. Se c'è una storia di successo dell'Europa, è l'Erasmus. Una storia di successo, ma chi lo dice a quei due genitori che abbiamo visto prima? Resta solo il ricordo, resterà, di quelle sette ragazze che non abbiamo mai conosciuto e che adesso possiamo tentare di intuire in quello che erano soltanto attraverso ciò che hanno lasciato. Come in tutte le storie di Cronaca, cerchiamo di conoscerle solo ora che non ci sono più queste ragazze di Barcellona, 19 anni la più piccola, 25 la più grande, la meglio gioventù d'Italia che studia all'estero, parla le lingue straniere e il sabato sera si diverte con 20 euro a una festa di primavera o a un concerto. La sapienza, come insegnava Erasmo da Rotterdam, ha bisogno di un po' di follia. C'era mezza Europa su quel pullman, considerato che fra le vittime ci sono anche una ragazza romena, una francese, un'austriaca, un'usbeca e due tedesche. E poi c'era mezza Italia, una friulana, una torinese, una genovese, una romana e tre toscane. Studiavano medicina, farmacia ed economia. La loro antologia, come in una Spoon River, contemporanea e Facebook, erano amiche fra di loro, per profilo avevano scelto una foto proprio di Barcellona o di New York. Valentina Gallo, fiorentina, 22 anni, studentessa di gestione aziendale, era arrivata in Catalonia nell'ultima settimana di gennaio, quando ancora cercava un posto dove alloggiare sulla sua bacheca aveva scritto di sé «Mi piace la musica, l'arte, cucinare con e per gli amici e andar fuori». Con le sue colleghe dell'Università di Firenze, Lucrezia Borghi ed Elena Maestrini, la prima di greve e inchianti, 22 anni, la seconda del grossetano, 21 anni, sabato scorso avevano inviato una mail ai loro docenti per chiedere una proroga del soggiorno di studio a Barcellona, così da accumulare più crediti e fare una maggiore esperienza. Elisa Valent, friulana di Venzone, 25 anni, faceva l'Università a Padova ed era in Spagna da meno di un mese. Quattro giorni prima della partenza aveva pubblicato la foto dei suoi scatoloni. Meno quattro giorni alla partenza da Padova, mi piange il cuore come stessi andando in guerra. Serena Saracino, torinese, 23 anni, da compiere il lunedì di Pasquetta, studentessa di farmacia, anche lei aveva chiesto di allungare il suo tirocinero spagnolo. A Torino, prima di partire, arrotondava con un lavoro da maschera all'auditorium Rai. In una delle ultime foto, la ragazza è ripresa in una posa che potrebbe essere un manifesto dell'Erasmus. La Saracino è davanti a una parete su cui c'è la cartina del mondo. Francesca Bonello, genovese, 23 anni, studentessa di medicina, l'amore per Barcellona stampato sulla maglietta. L'estate scorsa era stata in Shad come volontaria col fidanzato medico e con un'associazione di gesuiti. Era religiosa, di una religiosità vitale che indaga, ha detto un sacerdote, le piaceva cucinare e appena arrivata in Spagna aveva fatto le lasagne per 50 persone. Elisa Scarascio Mugnozza, 22 anni, romana, iscritta a medicina e psicologia. Nonno, padre e zio, professori universitari. Era partita due mesi fa per Barcellona. Il 20 gennaio, sul suo profilo ha messo una foto, una donna che precipita, in caduta libera. Lo dicevo nella premessa, questa giornata, che doveva essere una giornata politica importante, tutto è stato opportunamente, doverosamente cancellato. Tutto sembra avere molto meno senso al cospetto di tragedie di questo tipo. Ma a livello internazionale la giornata era caratterizzata da un appuntamento che è stato più volte etichettato già nelle premesse come storico. E storica è stata oggi la stretta di mano tra Obama e Raul Castro. Che sia una visita storica, ma storica davvero, che tutto ormai si è cambiato, lo racconta più di mille immagini la conferenza stampa, incredibilmente lunga, che chiude l'incontro fra Raul Castro e il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Dove ad entrambi non vengono risparmiate domande scomode, difficili, a partire dalla questione del rispetto dei diritti umani, chiesti a gran voce da alcuni giornalisti, a cui Castro risponde datemi una lista, se ci sono persone imprigionate entro stasera le libereremo. È irritato il presidente cubano, Obama su questo punto non gli ha fatto sconti, incontrerà fra l'altro, fra poco, proprio una delegazione di dissidenti fermati nei giorni scorsi e bloccati nelle stazioni di polizia per ore. E poi c'è la questione dell'embargo. Quell'embargo che riconosce Castro, Obama ha tentato di togliere ma senza successo. Glielo impedisce il suo congresso a maggioranza repubblicana, eppure, dice, è la condizione indispensabile perché davvero si possa proseguire. Del resto tutto è pronto ormai, i contratti, gli investimenti, le catene alberghiere, l'internet diffuso, i voli commerciali e la posta, ma, dice Castro, fra noi ci sono differenze che comunque resteranno. Ha paura, probabilmente, di perdere la sua anima, l'anima dell'isola, forse solo il potere. E così ecco Obama a sottolineare come il destino di Cuba lo decideranno i cubani. Forma molto ecumenica per dire che se la democrazia arriverà, qualcosa accadrà. E se non è la democrazia, è il business quello che aprirà le porte. In Europa la vicenda dei migranti dopo l'accordo tra Unione Europea e Turchia, un accordo che già vacilla. Se prendessimo esempio dall'Europa dovremmo chiudere le frontiere ai rifugiati. Sotto attacco Tajip Erdogan punta il dito contro Bruxelles e contro chi vuol dare lezioni di democrazia e libertà alla Turchia. Il presidente turco definisce ipocriti tutti quelli che non hanno accettato una no-fly zone, una zona libera dal terrore, in Siria. E ora si lamentano della situazione dei rifugiati. Erdogan spiega di aver accettato un accordo con l'Unione Europea per evitare un trattamento in deroga dei rifugiati, violandone di fatto il diritto all'accoglienza. L'accordo che però mostra già tutte le sue crepe dal punto di vista operativo. Dopo la Grecia, che ha chiarito di non essere in grado di iniziare il trasferimento verso la Turchia dei migranti irregolari, anche il portavoce della Commissione Europea ammette che l'intesa con Ancara non sarà facile da mettere in atto, in modo efficace e in tempi rapidi. Siamo consapevoli delle difficoltà, dice così il greco Margaritis Schinas, seguito a ruota dall'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. Applicazione complicata e non facile, specialmente nelle isole, spiega la Mogherini. Per questo l'Unione Europea dovrà mostrare concretamente tutta la sua solidarietà alla Grecia. Anche il governo tedesco chiede pazienza per l'applicazione del patto, e l'unica scadenza che fornisce il portavoce di Angela Merkel, Stephen Seibert, è quella dei due giorni necessari a dislocare in Grecia 300 uomini della sicurezza, traduttori, funzionari, che aiutino le autorità elleniche a far tornare i migranti in Turchia. Giusto comunque far entrare in vigore il patto già ieri, a chiunque deve essere chiaro, ha spiegato Seibert, che da domenica è iniziata una nuova fase della migrazione, nella quale non è solo costosa e rischiosa affidarsi ai trafficanti, ma anche inutile. Ma l'intesa non riguarda i migranti già entrati in Europa e bloccati alle frontiere, come i 15.000 del campo tristemente celebre di Idomeni, in Grecia al confine con la Macedonia. Per loro dovrebbe essere già operativo il piano di redistribuzione nei paesi dell'Unione. 160.000 ricollocamenti previsti dai centri di accoglienza di Grecia e Italia, solo 700 persone finora trasferite. Venerdì, il giorno della chiusura del vertice che ha sancito quella d'accordo, che sarà molto difficile e molto lungo far applicare, in realtà l'attenzione di tutti a Bruxelles e in tutto il mondo era sulla cattura di Salah. Oggi, a tre giorni di distanza, si possono vedere le immagini di quella cattura, ma soprattutto si viene a sapere qualcosa di nuovo, tra l'altro che altri giadisti sono ancora ricercati e sono pericolosi. Ecco le immagini della cattura di Salah Abdeslam, l'uomo che è riuscito a tenere sotto scacco Belgio e Francia per 127 giorni, fino a venerdì, quando la sua latitanza è finita a Molenbeek, la zona di Bruxelles dove è cresciuto. Le teste di cuoio sono nervose, troppe volte hanno fallito, il palazzo dove si trova è circondato, è in trappola eppure tenta un'ultima disperata fuga. Il terrorista disarmato si lancia allo scoperto, forse per farsi uccidere, proprio lui che non si era fatto saltare in aria allo Stade France. Gli agenti lo feriscono a una gamba. Sono contento che sia finita, non ne potevo più, avrebbe detto, prima di essere portato in ospedale. Il suo avvocato, Sve Marie, conferma, si è sentito sollevato che la caccia fosse finita, ha informazioni di grande valore, vale tanto oro quanto pesa, ma non ha mai detto di voler diventare un informatore. Al di là delle schermaglie legali, Salah sembra intenzionato a collaborare a condizione di non essere stradato in Francia. Rivela che stava per sferrare un nuovo attacco, questa volta a Bruxelles, e in effetti gli inquirenti, che si mantengono cauti sulle informazioni ricevute, hanno trovato armi e alcuni detonatori nell'appartamento di Forêt, dove si era nascosto il latitante. L'inchiesta comunque non è chiusa, altre persone devono essere identificate e catturate, spiegano i procuratori di Bruxelles e Parigi. L'intera filiera jihadista responsabile degli attentati deve essere ancora ricostruita, ma intanto è stata ricomposta un'altra tessera del puzzle. Uno dei complici dei terroristi in azione nella capitale francese il 13 novembre ha ora un nome e cognome, è Najim Lakrawi, conosciuto finora come Sufjan Kayal, è ricercato in tutta Europa. Gli inquirenti pensano che sia stato l'artificiere degli attentati, visto che il suo DNA era sulle cinture esplosive utilizzate. Lo scorso settembre, due mesi prima delle stragi, era stato intercettato alla frontiera tra Austria e Ungheria e sottoposto a controlli di routine. Troppo di routine, visto che è riuscito a passare assieme a Salab del Slam e Mohamed Belkaid, ucciso martedì scorso nel blitz della polizia a Foret. In Italia sta per succedere qualcosa di importante nel sistema industriale e Telecom sta per finire ufficialmente in mani francesi. Non solo, quelle stesse mani si stanno allungando anche verso Mediaset nel tentativo di creare un sistema integrato di telecomunicazioni che sarebbe non un campione nazionale ma internazionale e soprattutto ovviamente sarebbe al di fuori della sovranità italiana. Domani il CDA di Telecom approverà le dimissioni. Odierne Di Marco Patuano, l'amministratore delegato finito in rotta di collisione con l'azionista di maggioranza, la francese Vivendi di Vincent Bolloré. Il finanziere Bretone, dallo scorso novembre, detiene il 24,9% grazie a 3 miliardi di euro di investimento. Da tempo chiedeva discontinuità ai vertici dell'azienda che perde soldi. Traduzione, la testa di Patuano. I due avevano visioni divergenti sulle strategie. Bolloré sogna di incastonare team in un più ampio gruppo mediterraneo e telefonia ma anche i contenuti media. In realtà molti esperti sono piuttosto dubbiosi sulle reali intenzioni di Bolloré. Vivendi ha passato gli ultimi due anni a vendere le sue partecipazioni in compagnie telefoniche e produttori di videogiochi e poi negli ultimi mesi con un cambio totale di strategia che ha spiazzato gli analisti si è tuffata su team per averne il controllo tentando anche una scalata ostile a Gameloft, famoso produttore di videogiochi francese. Bolloré spinge perché Telecom venda le sue azioni nella brasiliana team participa. Soe per far cassa, nonostante l'economia in difficoltà di quel paese, renda l'operazione poco appetibile. Patuano era contrario. Da qua il suo addio con 7 milioni di euro di buona uscita più liquidazione che preoccupa non poco i dipendenti di team. In queste ore stanno tempestando di mail. Finora 1500, riporta il Sole 24 Ore, Matteo Renzi. Esprimono preoccupazione per la Telecom sotto controllo francese che vuol vendere le partecipazioni brasiliane. Temono licenziamenti in Italia e chiedono al Premier di sincerarsi sulle reali motivazioni delle dimissioni di Patuano, considerato uno di loro, visto che è in Telecom da 26 anni. In lizza a sostituirlo quattro nomi. Luigi Gubitosi, Massimo Xbarra, Andrea Mangoni e Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Italo. Quest'ultimo viene dato come il più papabile, ma bisogna vedere se il CDA di NTV lo lascerà andare. In borsa il titolo Telecom ha chiuso a più tre, ma gli occhi erano anche su Mediaset che in mattinata ha raggiunto più quattro sulle speculazioni di una possibile integrazione con la Telecom di Bollorè. Vivendi è molto interessato all'Italia, io sono amico del signor Bollorè da diversi anni e manifesta un interesse su alcune cose che noi facciamo in Italia, non assolutamente Mediaset, ma per esempio sulla nostra capacità di fare prodotti per la televisione e quindi è possibile che si trovino delle possibilità di collaborazione. Questa è la situazione, ma certo la preoccupazione, al di là di quella legittima dei dipendenti dell'azienda Telecom, è per un settore che è sempre stato cruciale, in Italia più che altrove quello delle comunicazioni. si è tanto manifestato, ci sono stati tanti scontri dai girotondi in su, ma negli ultimi tempi le varie fusioni non hanno dato luogo allo stesso tipo di reazioni. Potremmo vedere nello stesso anno Mondadori Rizzoli, Repubblica La Stampa e Vivendi Telecom Mediaset senza che nessuno muova un braccio, evidentemente sembra proprio così. Anche perché l'Italia è attenta, lo sappiamo, alle elezioni in arrivo, soprattutto quella della capitale. Ogni giorno spuntano nuovi motivi di scandalo per come è stata gestita la città più importante. C'è l'avvocato che invia la Bicana, a due passi dal Colosseo, paga 220 euro al mese grazie ad un contratto ereditato dalla nonna, ma nella dichiarazione dei redditi il suo imponibile supera i 700 mila euro l'anno. E c'è l'imprenditore, dal volume di affari milionario, che ne spende ogni mese meno di 400 in zona Trastevere. Ma c'è di più, canoni di locazione mensili da meno di 2 euro vicino alla stazione Termini o da 5 euro in prossimità di Campo dei Fiori, fino ai 160 euro in Piazza Navona. Sono i casi paradossali, con canoni di locazione risibili, tra i più eclatanti dell'affittopoli romana. Riguardano attività commerciali e abitazioni nel centro della capitale, immobili del Comune, dove l'85% dei locatari non paga, non importa che siano inquilini delle case o negozianti, e dove solo la metà dei morosi si è degnato di rispondere ai solleciti contestati. Il che significa che sono stati riscossi appena la metà di questi canoni, a dir poco, agevolati. Dopo il clamore suscitato dalle inchieste giornalistiche e dopo i primi passi dell'inchiesta avviata dai magistrati della Procura, il commissario straordinario Tronca ha completato la mappatura del patrimonio del primo municipio di Roma Capitale. Nel dossier, frutto di verifiche a campione sugli oltre 28.000 immobili comunali, la conferma di una casistica sconfortante. Una realtà fatta di immobili fantasma, occupazioni abusive, con suventri non dichiarati, illeciti, comodati o peggio, con contratti intestati ad affittuare i residenti altrove e in più di qualche caso deceduti. Con l'acqua calda si prende e si fa pulizia, si lava, si lavano tutte le incrostazioni. Un processo di verifiche anche attraverso la ricostruzione del disastrato archivio cartaceo del Campidoglio che Tronca ha avviato e potrebbe essere allargato su tutto il territorio metropolitano dal futuro sindaco. L'amorosità storica di questo enorme patrimonio, in base a quanto accertato finora, supera i 350 milioni di euro. Dopo di noi Lilligruber ospita a 8 e mezzo Alessandra Moretti, Alessandro Sallusti e Antonio Padellaro. Poi a lunedì nella nuova collocazione c'è Piazza Pulita e tra gli ospiti di Corrado Formigli spiccano Guido Bertolaso, Marco Damilano, Alfonso Sabella, Massimiliano Fuxas, Luca Barbareschi, Stefano Rodotà, Carlotta Sami, Edward Lutbach, Licia Colò, Simona Tedesco, Carlo Biffani. Ci fermiamo. Infine lunedì di Borsa con pochi scostamenti ha guadagnato lo 0,46 Milano, in questo momento a New York il Dow Jones più 0,08, Nasdaq più 0,15. È tutto, 8 e mezzo, poi Piazza Pulita. Buonasera domani.